Royal Family, nuovi problemi in arrivo, il spare di Harry è solo l'inizio. La pubblicazione del libro di Harry, Spare, ha attirato verso il principe e la moglie Meghan Markle critiche accese. A causa delle sue rivelazioni spietate verso il fratello William e la matrigna Camilla. Ora regina consorte al fianco di Ray Carlo I. Ma secondo analisti ed esperti, questo potrebbe essere solo l'inizio di una serie di problemi per la Royal Family. Il principe Harry e la sua dolce metà Meghan, infatti, avrebbero firmato un contratto di ben quattro libri con un colosso editoriale. Percependo una quota anticipata di circa 20 milioni di dollari. Il successo immediato del libro di memoria di Harry, con 1,4 milioni di copie vendute dal giorno della sua pubblicazione. Mette in ombra la cifra ricevuta come compenso, che adesso appare persino irrisoria e che potrebbe essere rivalutata, in vista di nuove rivelazioni. Fotocredits, Kika Press Music, Once again from Benson.com Leggi anche, Harry L'epizodio intimo imbarazzante raccontato suspare. Muzica a pus cu rap-ul și pentru el e de bun simt să ridic și tacheta, liric vorbința, ajungă la ea doar nasa cu racheta. Să o admire nave spațiale de pe Andromeda, ăsta-i țelul, îl execut ca pe Maria Antoaneta. Aia de când mă știu textul-i plin de dude, tu mere tante printre talea culte, încerc flow-uri sute la show-uri puite, cum rup capete lumea de din capă rupte. Obele bat cu inima deodată, nu le opresc, că nu s-a atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi. Orice crezi ține pentru tine, fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grapărul din Toto, toți MC-ul care am crescut, pe scurt, de la un...